Allora, pronti per una nuova puntata di Wario! Ciao a tutti, è ritornata finalmente con un nuovo microfono, alleluia E spero che vada bene, io vedo qui un problema, scusate un attimo Oh, ecco, va bene, con qualche problematica Dopo due anni di lungo servizio, il mio microfono è morto Quindi, aspettando che Ebay me lo portassi, ci ha messo tanto, maledetta posta Va bene, continuiamo Oh What? Where's my money? My money! I want my money! Dov'è? Traditori! Mi soldi! Mi tesori! Oh, una gallina Oddio! La mia gallina! Cocca, torna qui! E prepariamo per il secondo capitolo, SS Teacup SS Coppa di Tè Storia 1, ritorno Return Tehian to here Ovvero, riportare la gallina al gallina al gallo Ok Come non siamo, è sparita la gallina La dobbiamo riportare Oh, noi nemici! Porco spino Uh, qui c'è qualcosa interessante Vieni qui Vieni qui E grazie per il suo servizio Reiso Ok, andiamo a vedere subito cosa c'è Oh Oh Weila! Monetone! Monet... Monet... Monete sono sempre ben accettate Perfetto Ok, continuiamo A proposito, arriverà anche Chiaramente con un nuovo microfono Ciao Gallo Gallo Citrone Lui non lo possiamo ammazzare Perché ci serve per finire Il capitolo Quindi, ritornati Bello via da là Vediamo un po' qui cosa c'è Mr. Buberang, ciao Possiamo non lo dovremmo uccidere Sì, ma vabbè Continuiamo Vediamo un po' Monettino, vieni qua Vediamo un po' qui Vediamo un po' qui Vediamo un po' qui Ok, possiamo continuare Qui sento puzza il tesoro E sento puzza anche lassù di tesoro Quindi Per la tua incolumità Devi andare Di qua Vai Giù 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 Ecco Sperando che adesso non lo ammazziamo Che ci Due Ah Naggia Sì E cadiamo Dove andiamo? È un po' interessante Ma non vedo niente di Che ci Moneta argentosa Multicolor Ci facciamo subito fuori Che ci dà fastidio Camera segreta Tesori? Oh Sì Facciamo subito Facciamo il normale va? Tanto ci faccio i soldi Fa spendere Papera Papera Povera Vediamo un po' 3 2 1 Start Let's go Trovato Subito Subito Molla il tesoro Sgancia Ok E abbiamo Non si vale Si vale della velocità A quanto sembra No Non me di Non me di Ho perso Cavoli Ma tanto Ritorniamo Un attimino Mannaggia Santo Uh La gallina La gallina Delle uova d'oro E che altro Sì Ehm Qui cosa c'è? Vieni qui Mi servi Ma Vuoi essere utile? Oddio Oddio Sì Non ci arrivo Ci arrivo Non vale Vabbè Non ci fate caso Alle voci di là Che ci stanno Lidicando Tanto per cambiare Ok Ciao Gallo Qua giù Ops Beh tanto c'è L'altro Regallo Che può essere utile Ok Continuiamo a prendere Money 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 300 del 333 Madonna santa Il numero più Sfigato del mondo Ritorniamo un attimo giù Voi sapete dov'è quel passaggio Sai che c'è un passaggio segreto E non l'ho visto Eccolo qua Money Come here Come to daddy Ok perfetto Adesso possiamo anche continuare Allora Beh cosa volevo dire Sì Abbiamo la gallina La gallina La gallina Vieni qua Ecco Abbiamo la gallina Cosa succede se il gallo ci vede Ci segue Vieni qui E questo fa male Però non ci interessa Questo Ciao No Gall Mori Ci siamo persi la gallina No God damn it Vabbè Facciamo così Così La La Riprendiamo Sta Cocca Torna qua E' il padrone che lo ordina Vieni qua Vieni qui Cocca Ok Adesso Il gallo qui ci deve seguire Vieni Vieni Oh merda Oh Qui Aia Qui siamo Vedi come ci fa male Andiamo Andiamo Mi vedi Ho Cocca qua Adesso solo Cosalla Che gallo Scema è questo E voilà Wow Non voglio manco immaginare quanto male ti ho fatto Va bene E prendiamo subito tesorino Può essere un 1 Un 7 Passimo numero Tenti Guarda Non ci aiuta Mica tanto L'unico numero che mi viene in mente È il 3 Guarda Sbagliato E' un altro Pezzo Di mappa 8 minuti Dai Continuiamo Tanto posso Massimo Arrivare Al boss Salviamo Complete Scappare dalla foresta Andiamo Scappiamo dalla foresta Che mica mi ricordo Che sono Decenni che non ci gioco Quindi Uh no 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 Si li ubriacono Questi non li sopporto Sti pinguini col cappelletto Se vi acchiappano Vi fanno ubriacare Ma ubriacare De brutto Ok Lì non mi fido Cosa c'è? Vale E nì qui Che ci servi? Si può anche morire adesso Non mi interessa Non c'è più niente No Basta Finito Io non farò mai Il coso Lo stile Ubriaco Grazie Tu ci servi E lì qua Grazie E ancora Mi ricordo i grossi Eh Non c'è più niente Adesso Domanda Come cavolo faccio Andare lassù? Che non lo ricordo Brutta Sottospecie di pugile Nano E mi sa che ci serve Lo zampino Di questi disgraziati Qua Oddio Non lo so mica Eh Vabbè Continuiamo avanti Come here Mi servi Sono scema Ok Ufficiale Sono scema Ufficiale Non mi freghi Ma tu dovevi Vabbè Continuiamo Foxy Non mi piace Non mi sta Percibendo La piega Che sta facendo Questo gioco Ciao Che serve Allora Oh no Io qua Non voglio andarci Però lì È Allettante Come cosa Comandi Volete funzionare Per Vinci Va bene Una meraviglia So Dai Vi vuoi spendere Sti soldi Per Vinci Ok Giù No Non è andato bene Prima Questo è A Questo pulsante A Questo pulsante A Vale Ok Ok Poi torno indietro Vado a prendere Anche un altro Mr. Babbo Mr. Babbo Mr. Babbo Mr. Babbo Ho preso Ciao ciao Mr. Babbo E abbiamo Una sciabola Bellissimo Bellissimo Mi piace Mi piace Guarda Sinceramente Sono arrabbiata E si scopo E si scopo al capitolo Ok Nasciabola Abbiamo il tesoro Abbiamo un 1310 Ok Può essere un 2 O un 2 Oddio Sai che non lo so Vabbè dai O lavalo a spacca Due Sì adesso che ci vedo Adesso Adesso che ci vedo No Adesso che ci penso Ok Abbiamo un altro Frammento di mappa Buono 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 Buonissimo E continuiamo Dai Su Dai Facciamo 3 capitoli Oggi Get in te Teacup Dentro la Tazza di te Eh No Il livello mare No No Io li odio Il livello mare Io li odio Perché non puoi ammazzare Nessuno Qua Ma se non mi sbaglio Ah So che cos'è il teacup Era nave Quindi Credo O a meno che Ho fatto spoiler Che c'è una pagazione Ho fatto spoiler Ho fatto spoiler Scusatemi ragazzi Sono decenni Che non gioco E che mi ricordo Che c'era una nave Che si chiama Tazza di te I gabbiani Occhio Il momento che Voi toccate i gabbiani Lo sforiscono Due 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 No Due Carini cantano pure Mi immagino Il dolore che provano Se Uno Con la stazza E il peso di Wario Li vengono addosso Vengono letteralmente Schiacciati Poracci Fanno la protezione Rimane Non ha detto niente Con fronte a questo gioco Boh Ecco qua Fatto Quindi Allora Riprendiamo Continuiamo Qui Il tesoro Questi Li odio Li odio A morte A morte Ce l'hanno goduta Per creare Questi mostri Dienere Quattro Quattro Tutto silenzio Gli sfiori Si smigliano Vabbè dai Continuiamo Pugile Mi stai Intracciando Il mio passaggio Amo Quando vuole Fa quello che gli pare Ok Money Money So money I love money Si fa felice Con tutti questi Vai Smama Oh Qui ci sono le murene Vero Oh Allora Io non riuscivo mai a trovare A capire dov'è Il Il coso del gioco E una di queste murene Nasconde la porta Solo che adesso non ricordo qual è Mi sembra che era La quarta La quarta murena La quarta Dai proviamo Dai Non è la quarta murena È più in là Monitina Grazie L'importante è che non mi fai Bindolare da queste murene Allora Non era la quarta Oddio qual era Era una di queste Oppure se ne stanno altre in avanti Se ne stanno altre No Quindi Non ci stanno altre Allora forse Era questa La murena La fatta acchiappare Si era questa Ok Cioè io l'ho scoperto Sta cosa Quando Così All'improvviso Dai che cercavo La cercavo All'improvviso Mi sono fottacchiappata Dall'ultima murena E voilà Trovo il cuoco Il cuoco Oddio non l'ho visto Dov'è il cuoco Tanto so che sbaglio Qua Lo sapevo È l'altro Va bene Fa niente Tanto che poi i soldi Li recuperiamo Rifacciamo Io che stavo Parlando della murena Non mi sono concentrata Concentriamoci Oh no L'animale Sto disgraziato C'è l'uno Ho trovato Dov'ai? Ma non riguario Ritorna Ecco qua E un diamante Un topazio Mi sembra che sia Va bene Non è che ci abbiamo Tanti soldini Però Va bene Allora Li ricopriamo Da qui Dai Non faccio velocità Gogo Perché ho paura Di essere acchiappato Qui è semplice Andiamo Su 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 Guario Andiamo che siamo In ritardo Oh E siamo arrivati A capoligna Già Questa è la SS Tia cotto Ovvero SS Tazza di tè Eccolo qui Perfetto Vabbè Anche recuperate I soldi Ci mancavano Ok Perfetto Va bene Dai Iniziamo Su Può essere qualsiasi numero Tranne l'1 Ovviamente Può essere l'8 Oppure 9 O è il 5 O è il 9 È il 5 4 5 Guarda Inoltre Ricopriamo i soldini Dai che ci li rubano Va bene 20 minuti ragazzi Finisco qua il video Sì sì dai Finisco qua il video Ah Comunque Siamo una comunicazione Ho un tantino esagerato Ogni giorno Sempre un Un gioco Così Io Inizialmente Vorrei finire Questo Concentrarmi Un singolo gioco Perché così Non mi impiccio Non faccio errori Tutto quanto Inoltre Notizia di Pokémon Soul Silver L'ho dovuto Ricominciare tutto da capo Perché ho avuto Dei problemi Quindi A parte che ci saranno Delle nuove novità Allo sfondo Degli Come dire Delle informazioni in più E giustamente Per avvigolarvi Avvogliarvi Vedere meglio il video Anche se Purtroppo Lo dovete vedere A schermo intero E Che altro Sword of Mana Sword of Mana Ritornerà Ovviamente Vedo che Sta piacendo più La versione maschile Che quella femminile Comunque sia Sarà sempre Dovranno postare Entrambe Nello stesso giorno Ovviamente Sia la versione di lui Che la versione di lei Quindi Non vi preoccupate Non c'è bisogno Anche di commentare La versione di lei Giustamente Per vedere dove Come la storia cambia Poi Yoshi Yoshi Continua Si continuerà Lo farò solo Il fine settimana Finito questo Finito Wario Inizierò a fare Zelda Perché Zelda Ci mette Molto Ci mette Molto A farlo E quindi Anche se è la mia Prima let's play Per un momento Io stoppo E sto facendo Anche altri Ritocchi Perché ho imparato A usare il Camtasia Finalmente E anche Quello sto qua Avrà Una visualizzazione Diversa Avrà uno sfondo Ovviamente Più carino Ci metterò il link Il cattivo Della situazione Giustamente E che altro No solo questo Sì solo questo Per da dirvi Detto questo Ragazzi Io vi saluto Spero che vi sia piaciuto Questa Questo video Ci vediamo Domani Con un'altra puntata Di Wario Tanto salviamo Ok Arrivederci Buongiorno Buonasera Buonanotte Dipende da che ora Arriva E salutiamo anche Il nostro nuovo Microfono Che è arrivato Finalmente Ciao ciao